però mi tolgo pure qualche sfizio come quello che mi sto per togliere adesso perché ho sempre sognato di farlo è un sogno che c'avevo da quando ero bambino io devo annunciare il nostro prossimo ospite ma lo voglio fare insomma come i telecronisti quelli bravi quelli seri allora dal coordinamento Alessio De Giuseppe che è collegato telefonicamente con noi ciao ragazzi avevo sempre sognato di farlo mi ha detto questa cosa 25 volte io ho detto Alessio è il personaggio giusto con cui farla del resto hai fatto la storia raccontando il Bologna Champions League in auto con Orsoli quindi questo non è nulla abbiamo fatto tante di quelle battite è indimenticabile poi il bagno che ti hanno fatto la meravigliosa notte e lo scudetto quello mi rimarrà nel cuore per sempre ragazzi parlando di cose un po' meno emozionanti però comunque belle la tua visione da bordo campo della partita del Napoli di ieri che per me è una delle migliori della stagione sono d'accordo guarda ne parlavo anche con altri miei colleghi cioè è vero che il Napoli ha sofferto un po' nel senso che il gol lo poteva anche prendere bisogna anche della verità perché quello di Coppola è incredibile però per attenzione nei 90 minuti per costanza sono d'accordo con te cioè in altre partite magari c'è stato un attimo di respiro un attimo di confusione ieri mai ragazzi ma è sempre un'attenzione al 100% Alessio tu insomma hai fatto anche questo colpo tra virgolette giornalisticamente parlando sei andato a recuperare non so se l'hai recuperato tu di persona o te l'hanno dato però lo sono fatto recuperare però l'ho tenuto d'occhio da quando è entrato in campo ho visto dove era caduto e me lo sono fatto andare a vedere ho percepito dalla tv ho visto la gara in tv appunto la tua curiosità per questo pizzino come ormai vengono chiamati non nel senso chiaramente malavitoso del termine eri curioso di vedere cosa c'era scritto poi lo hai fatto vedere e quindi questo assetto tattico che Conte ha dato ad Anghissà secondo te perché Conte ha sentito il bisogno di far leggere questo messaggio e non semplicemente comunicare a Spinazzola a Napoli la chiamiamo l'imbasciata cioè l'informazione come mai secondo te Conte ha voluto invece scrivere con il suo pugno il pizzino e l'ha portato in campo e farlo leggere ad Anghissà perché secondo me dà talmente tante indicazioni che riuscirsi ad adattare in quella maniera in quel preciso momento di partita e spiegare un po' come bisognava adattarsi anche in virtù del Torino perché il Torino si era messo con G in una situazione particolare quindi Anghissà era dall'altro lato rispetto a lui e alla panchina quindi ha voluto perché i collaboratori dicevano ma vabbè ma diglielo no 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 voglio che voi lo scriviate lo mettete bene su carta perché così lo poteste vedere immediatamente in testa quel ruolo un po' strano che gli sarebbe aspettato di fare l'esterno e quindi voleva che lo avesse bene bene a mente inquadrato proprio a livello anche perché Conte lo diceva ieri McDominay ma lavora tantissimo a livello visivo con i video cioè non è solo da parole è uno veramente che dedica tanto tempo alla teoria sentiamola così Ciro è un 5-4-1 lui gliel'ha anche detto poi ha visto Spinazzolo e faceva 5 più volte esatto e poi ha detto Conte ai microfoni proprio nel post partita che visti i cambi che aveva fatto il Torino voleva cautelarsi un po' ti dico se da bordo campo si percepisce il grande lavoro che fa il Napoli sull'avversario perché ieri il lavoro che faceva Anghissà e Politano di tenere basso Masina una sorta di 4-2-4 diverso asimmetrico che ha fatto ieri il Napoli che in ogni partita cambia è proprio McTominay come dicevi tu è la chiave noi lo vediamo il Lecce che viene a chiudersi McTominay più avanti vicino a Lukaku la seconda punta a Milano il duello con Barella ieri questa mezzala che ha fatto molto più lavoro di palleggio e dentro la partita che di attacco alla porta avversaria nonostante abbia fatto gol si si vede proprio questo lavoro è la forza del Napoli di quest'anno secondo me in Ciro nel senso che si adatta all'avversario ed è un Napoli camoale ontico anche dal punto di vista dell'approccio proprio alla partita cioè evidentemente c'è anche un lavoro più profondo avendo la possibilità in settimana di lavorarci di più magari rispetto alle altre di studio dell'avversario quindi il Napoli ci arriva pronto alla partita ed è quello che ci dicevano i giocatori del Napoli nell'anno di Spalletti dell'anno dello Scudetto cioè ricordo che Raspadori e Farascheli a diverse volte ci raccontavano che loro andavano in campo e sapevano già cosa fare ovviamente riferimento all'anno scorso invece in senso negativo viene subito a mente dove c'era un po' di anarchia e quest'anno invece tutti sanno perché la preparazione della partita è proprio in base all'avversario ci sono alcune regole da seguire primarie e poi di conseguenza ognuno ci mette il suo talento Alessio ieri una buona prova per Quara sicuramente con l'assist non solo però un'altra uscita dal campo come l'hai percepito questa volta noi non abbiamo colto segnali particolari sembrava tranquillo però insomma tu eri lì sicuramente hai visto meglio tranquillissimo ma io non mi spaventerai neanche delle uscite arrabbiato perché lui è un precisino lui è un è un maniaco della precisione quindi se qualcosa gli va storto gli viene proprio il nervoso capito però è questo cioè a favore a servizio comunque della squadra e dei compagni non è egoistico questo non sono egoistiche queste le azioni lui vuole essere preciso vuole che tutto vada per il meglio nel suo contributo che dà che dà la squadra ieri era molto serene perché sa che ieri comunque è vero magari si è incapponito qualche volta nel tentativo di andare in uno contro uno eccetera ma ha servito l'assist comunque in qualche modo statisticamente inciso e lui è già contento così sì lui ha questa ansia di determinare cioè che se non determina non sta bene con se stesso per me su questo aspetto deve migliorare poi per la sua carriera che ahimè prima o poi purtroppo sarà lontano da Napoli perché è destinato a fare più poi è destinato a stare nei club che possono vincere la Champions per intenderci però quando sbaglia un gol se la porta dietro per esempio ieri quando tira alto da buona posizione ci rimane male per qualche minuto e questo incide sulle giocate sì sì è vero è vero è vero no no la deve migliorare da questo punto di vista anche perché un campione poi dimentica subito cioè pensa subito alla cosa dopo non è che rimurgione non è che ha trancore va avanti e pensa a cosa succederà dopo adesso è una curiosità perdonami perdonatemi tutti ma Conte le parolacce le dice come 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 si comporta a Bordogà perché io so che ci sono allenatori che dicono tantissime parolacce alcune irripetibili Conte com'è da questo punto di vista proprio dal proprio dal punto di vista del turquiloquio sì ha un lessico tutto suo nel senso che a volte storpia le parolacce ogni tanto si lascia andare ma qua abbiamo uno dei più grandi imitatori d'Italia ma come sei diplomatico cioè voglio dire lui le storpia proprio le non so uso delle parolacce tutte sue ma anche non so neanche parolacce perché non saprei come definire non so neanche farti un esempio però sono modificato sono un po' modificato perché è arrabbiato ma non troppo capito cioè ma che significa ma che significa non lo so guarda c'è un video sui social dove c'è lui che fa entrare Mazzocchi e dopo tre secondi dice Pasquale dove è Anzola vai è proprio una cosa incredibile il tempo che l'ha fatto entrare non è neanche entrato nel campo neanche fischiato l'arbitro per riprendere il gioco Pasquale dove Bip vai insomma c'è di peggio però Alessio hai sentito di peggio a voglia a voglia penso che hai fatto il bordocampa da Romani Murigno puoi fare tutto nella vita no? sì ma lì non era tanto lui quanto la panchina intera lo staff che aveva dietro mamma mia quanto parlava ragazzi in Europa un casino su quella panchina perdonaci non voglio farlo indiscreto chi è l'allenatore che dice più parolacce in assoluto allora fammi pensare hai fatto una domanda difficile già è curioso non è che uno si aspetta ma lui a Bordocampo io no quindi chieda c'era in serie B agli essi che era una roba e vabbè ma mo avete sentito la conferenza stampa di Dal Canto che mi ha fatto molto ridere la cittadella beh devo dire in serie B allora potete diffondere la cosa in serie B che era cioè in serie B era uno spazio ragazzi in serie B di più sì hanno un po' più sono un po' più pettinati in serie A capito un po' più con la camicia in B si lasciano andare anche Casperini e no dipende no non l'ho fatto lui a Bordocampo ah ok ti manca ci stanno bombardando dalla chat ah Gasperini Gasperini avevo capito sì no no Gasperini no Gasperini Gasperini urla 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 in continuazione cioè proprio eh anche lui no diciamo che non è sempre sento dalla chat ci suggeriscono Sarri sento un po' di diplomazia nelle parole di Alessio lo capisco perfettamente perché poi ma ci lavoro domenica poi ragazzi a questo punto ti faccio il CT della nazione l'altra nazione non la fai e quindi dimmi Spalletti un'educazione disarmante disarmante veramente ragazzi Spalletti non dice parolacce cioè odio ogni tanto sì perché il CAS lo usa spesso però però mediamente è tra quelli meno dai abbiamo tirato fuori Aglietti e dal canto come nome ce l'abbiamo fatta io parlerei per ore di questo con te caro Alessio però non possiamo andare ci suggerivano dalla chat Sarri tante parolacce ma Sarri è il più sboccato è il più volgare vabbè non lo so sto pensando altri eh ma ce ne sarebbero sì Sarri Sarri l'hai fatto tu? ah sai chi sai chi Zanetti del Verona ah vabbè però quello bestemmia oltre a dire parolacce è bestemmia però posso aspetta però a Zanetti gli voglio bene dell'anima le bestemmi sono a rischio squalificare no no io parlo di parole eh ma infatti no no di un po' di di sfogli diciamo chiamiamoli così però gli voglio un gran bene a Zanetti perché è veramente cioè è come se fosse un nostro amico che no non è vero è brutto innanzitutto è un grande professionista è bravissimo però cioè è umanamente è molto vicino a noi esseri umani capito cioè è una persona umile e straordinaria secondo me nella comunicazione anche la famosa cosa che ha detto ora anch'io non vedo i miei figli mi dicono dove è papà sul ritiro del Verona è molto umano poi è è Vicentino se non ricordo male Zanetti quindi da da buon veneto insomma ci sta voglio dire va bene ce l'abbiamo fatta allora Paolo Zanetti è l'allenatore che dice più parolacce in serie A Alessio non ci ha detto niente abbiamo ricostruito va bene grazie Alessio grazie ciao ragazzi ciao grazie 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 Alessio di Giuseppe dopo questo delirio dove abbiamo parlato di oh ma scusate ma scusate